Nel XIX secolo e per molto tempo ancora, nella sinistra marxista si è ritenuto che la contraddizione principale fosse quella tra le classi sociali. Le chiedo, è o non è secondo lei la lotta di classe il motore della storia. Un giorno mi è stata fatta la stessa domanda a Santander in Spagna presso una fondazione dell'Opus Dei e io ho risposto non sono in grado di rispondere, rivolgete la domanda al Padre Eterno. Il Padre Eterno può rispondere, non io. Che vi sia un motore? No, non c'è un motore della storia del mondo, ci sono tanti motori, tante forze. Se ci fosse un motore della storia, noi lo conosceremmo da tempo e questo motore lei lo chiama lotta di classe. Ora la lotta di classe è eterna, perché la lotta di classe è l'esistenza di una gerarchia sociale. Jean-Paul Sartre sognava una società sul piano zero, l'eguaglianza di tutti. Ora io che sono uno storico non ho mai incontrato una società simile, notate che mi farebbe molto piacere, sarebbe una scoperta meravigliosa, ma non esiste una società egualitaria. C'è sempre in una società una minoranza che ha nelle sue mani il potere, i privilegi, le belle donne, il danaro, gli automobili. È così in tutti i paesi del mondo. Che cos'è la lotta di classe? È la cosa principale, è una cosa che esiste da sempre. Cacciate quelli che stanno in alto nella società e accade generalmente che altri vengono a prendere il loro posto nel palazzo. I piani superiori non sono mai vuoti e anche quelli inferiori, per fortuna. Se non ci fosse più nessuno in basso la situazione sarebbe drammatica. Ma anche il mercato è sempre esistito? No, non è esistito sempre. Nella nostra conversazione preliminare abbiamo parlato di Carl Polany, l'economista Carl Polany. Egli ha dell'opinione che il mercato è una creazione relativamente recente. Io comunque credo che si inganni nel dire recente. Il mercato capitalista? Il mercato non è necessariamente capitalista. Il mercato è la vita normale di una società di oggi. È la vita trasparente, come dicono gli economisti tedeschi. Mentre il capitalismo non è trasparente. E poi è un gradino più su. Lei e io abbiamo accesso al mercato. Quando siamo in un negozio discutiamo sul prezzo, siamo a nostro agio. Ma quando siamo in una banca per ottenere un prestito o per pagare ci troviamo in un altro sistema che generalmente non è trasparente, che è completamente differente. Carl Polany, o perlomeno le persone che hanno seguito il suo pensiero, pensano che la gerarchia sociale, che il mercato capitalistico sia una formazione relativamente recente. Io non lo credo. Credo che sia una formazione molto antica. Io credo che da quando le società hanno raggiunto un certo grado di complessità non hanno potuto vivere senza darsi un ordine, una gerarchia, con scambi, con una divisione del lavoro e con un mercato. Che sia meglio o peggio, fatto sta che gli uomini chiusi in se stessi non possono vivere. In ogni caso, secondo lei, mercato e capitalismo non sono la stessa cosa? No, no. Per me il capitalismo è l'ultimo stadio della vita economica. Come vi è un livello più alto della società dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, le cosiddette elite, così dal punto di vista economico è il capitalismo. Cioè delle persone che hanno delle preoccupazioni che noi generalmente, né io né lei, abbiamo persone che in questo momento stanno acquistando delle macchine da cucire a Hong Kong per rivendere in Algeria o che fabbricano delle scarpe nella Corea del Sud e che le importano come scarpe italiane sul mercato francese. Sono delle persone che fanno una vita molto poco divertente, non sempre facile. Io ho potuto conoscere, quando ero prigioniero, delle persone particolarmente ricche, il loro nome è troppo conosciuto e preferisco non farlo, che mi facevano molto pena. Io credo che essere obbligati ad occuparsi del nickel della Nuova Caledonia o dello spostamento della risalita delle azioni, penso a chi ha una banca e se la vede nazionalizzata dal governo francese, sono dei problemi, dei problemi terribili. Io personalmente preferisco la mia vita alla vita dei capitalisti che ho avvicinato sia in Italia che altrove.